il babbo ci va in cantina no perché sennò angoletti vostra ma che siete scemi benvenuti in me molto altro sono il meno arancione e un altro video gameplay di marta is dead e scopriremo cose faremo cose intanto qua c'è la penombra addirittura allora vediamo se qua c'è qualcosa da fa no allora mi metto un bello comodo scusate però voglio andare ad aprire andare direttamente alla camera quella la click forse dentro lo scrittorio quello di lei che c'è il libro eh sì infatti mi sembrava troppo bello che era la camera lì la scopriremo più avanti sicuramente magari c'è la chiave qua dentro una lettera 16 luglio cara sorella affido i miei segreti a questa lettera se la stai leggendo le cose sono andate come pensavo io non ci sarò più per prima cosa io non sono sorta non lo sono mai diventata la mamma mi faceva paura così decisi di non parlare e di non sentire più ha funzionato la mamma cominciò infatti ad amarmi e trovarono anche una spiegazione scientifica un danno neurologico causato dalla pressione esercitata dalla gemella durante la gravidanza ha progressivamente portato alla perdita dell'udito e così anche questa mia scelta si è trasformata in una tua colpa devo rimediare altri segreti purtroppo sì ma una lettera è troppo distaccata ora che sai vai in camera oscura ho nascosto una registrazione ascoltala è la mia voce addio marta perché questa follia marta mi hai privato della tua voce per più di 15 anni voglio sentire la subito questa per 15 anni ne ha parlato ha fatto pinta di essere sorda o intanto già stiamo qua qui non c'è niente tanto sta qua per forza eh che può scappare andiamo ah vedi però qua non c'era nient'altro no ok sentì ma voce di marta per la prima volta chissà forse è collegata la è sicuramente collegata alla storia ciao giulia so che questo ti sembrerà assurdo ma questa sono io e questa è la mia voce siamo uguali anche in questo è ovvio in fondo ho sempre parlato tu eri la mia voce sto andando incontro al mio destino e non voglio che rimangano segreti tra noi devo dirti che sono sono incinta giulia sono incinta di lapo facevamo l'amore non ho mai avuto il coraggio di dirtelo avevo paura di ferirti mi vergogno così tanto e ora come potrei mai partorire questo figlio si comincia a vedere la pancia capisci per questo non mi spoglio più ma per quanto ancora potrei nascondermi ieri mi hai chiesto di andare insieme al lago al mattino presto tu che sei una dormigliona ti ho chiesto di scambiarci i letti come facevamo da bambine mi sono alzata all'alba e non ti ho svegliata ho indossato un tuo vestito no io sono consternato perché è rimasto lele la cosa qua ho scritto un biglietto alla mamma dicendole che ad essere incinta sei tu non io e di venire a verificare al lago questa mattina l'ho lasciato sulla scrivania in camera sua la mamma è difficile ma devo dirti una cosa ho scoperto che giulia è incinta vai al lago domani mattina presto osserva mentre si fa il bagno vedrai che si inizia a nuotare la pancia marta ma scherzante e dove devo andare che non ho capito ah ok io devo dare la lettera alla mamma pensate aspetta come si fa ecco così poi ho sentito il bisogno di parlarti e ho pensato di usare il registratore in camera oscura ah questo ho capito ho capito e vedi come dormono eh ah ah eh ho capito questa è marta che sta parlando cioè io sono marta adesso ecco perché della lettera e di tutto quanto così scopriamo quello che sta facendo non c'era arrivato pensavo che era giulia allora in camera oscura ha detto e così vediamo pure come è schiatta allora andiamo giù vedi si è aperta pure la porta non c'era arrivato subito però mo si qua non ce potremmo entrare manco per scherzo eh quindi credo che questo ci fa vedere come è morta sì però sì ma perché cioè che devo fare qua ma devo andare al lago o devo ah aspetta qua c'è qualcosa ciao giulia ero sconvolta semplicemente sconvolta quel maledetto giorno il 16 luglio marta non mi svegliò era tardi marta non mi aveva svegliata come eravamo d'accordo e io dormivo sempre troppo allora prima era marta ma chi è questa giulia o marta non mi aveva svegliato non mi aveva svegliato e beh ah dove va tutte cose qua nel mio armadio mancava un vestito marta non c'era dovevamo andare al lago insieme aveva persino rifatto il suo letto pensai che la mamma si fosse svegliata presto nonostante le medicine e le avesse chiesto qualcosa decisi semplicemente di uscire e andare a fare le fotografie per conto mio senza la compagnia di marta ok questa è giulia ok via la porta quindi questo è un flashback insomma una cosa che se c'è qualcosa da prendere a porta del bagno no qui non credo che dobbiamo entrare qua dice di andare al lago perciò fare le foto al lago no però la macchina fotografica l'abbiamo qui oh ok era una mattinata nebbiosa nonostante non fosse ormai più l'alba era il presagio di qualcosa di terribile mia madre aveva ucciso la sua adorata marta con le sue stesse mani e io avevo preso il suo posto usurpato il suo trono affettivo non me l'avrebbe perdonato mai dovevo avere paura no la storia è veramente qualcosa di veramente beh scritta altro che veramente veramente geniale c'è nulla da dire insomma cercai una pistola del babbo per difendermi stupida ragazzina che ero decisi quindi che innanzitutto c'erano i rullini da sviluppare e che se questi non avessero svelato la sua colpevolezza avrei dovuto cercare le prove della gravidanza di marta cimitero ok siamo tornati alla realtà diciamo vediamo qua se c'è qualcosa di nuovo ah no sempre roba quella lì tanto qua il quadro è completo eh quasi ok andiamo al vediamo il giornale eh no il giornale è amoletto e rullino sviluppa la foto ah il rullino del vestito ok se vede niente qua allora così eh qua non ci potremo entrare un telegramma di condoglianze in ritardo forse vediamo un po' qua intanto attentata di Hitler ok ah beh eh quello sì dopo l'attentato compiuto da un gruppo di traditori le parole di Hitler sono nell'essere scampato vedo un segno del dovere che mi incombe di continuare la mia opera va bene allora eh andiamo a sviluppare la costa c'è vediamo dottor T dottor T no è l'arcoso la prego di affidarsi al consiglio del suo medico curante la ringrazio per la generosa e caritatevole donazione al nostro istituto il direttore S ospedale psichiatrico di Volterra telefono 0782 ora che ha scoperto tutto mi vuole rinchiudere in manicomo ma pensate vuole uccidermi e far pensare a tutti che io mi sia suicidata sta preparando tutto nei minimi dettagli ah niente ci ha mannato all'ospedale hai capito la madre quanto è buona allora che dobbiamo fare ah dobbiamo sviluppare il rullino la foto quantomeno andiamo a sviluppare eccola la madre maledetta in camera oscura ora mai devo rimanere il più lontano possibile da lei potrei andare al cimitero per scoprire se Marta era realmente incinta e che fa ma risumiamo dalla tomba e allora intanto la musichetta ricorda il telefono può essere usato digitando i numeri trovati ora provo il telefono un attimo questo apro vabbè questo l'avevamo letto insomma vediamo un po' fammo un po' le telefonate anonime allora la facciamo se legge bene carabinieri 6978 6 tanto per capire 6978 ok ok carabinieri arrestate mi madre attacca come attacca salve salve chiamo per avere informazioni sull'andamento delle indagini sull'omicidio di Giulia K attenda un momento prego lei chi è signorina sono la sorella di Giulia K certo lei può parlare e io posso volare ma le sembra il caso di fare questi scherzi noi richiamiamo mi sa che non muo fa fa eh 6978 perché io so la sorella era ho già chiamato a cosa servirebbe niente ho sbagliato vabbè i carabinieri ci hanno dato buca allora qui no eh no dobbiamo uscire dalla casa però io volevo vedere ospedale psichiatrico magari riesco ancora allora manicomio 07 8 7 07 8 7 sembra la data della nascita mia devo aver sbagliato numero che è uno qua ah uno è pensate eh no è così è manicomio ah no manicomio 07 ah 07 8 2 0 7 8 2 forse ho sbagliato ma posso riprovare oh niente vabbè attaccamo chiudi e andiamo a finire il cimitero andiamo 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 allora vediamo mappa ah potrei anche andare qua la bicicletta c'è dove va la bicicletta ah la bicicletta è dove sta la bicicletta ok obiettivi il telefono i carabinieri ho chiamati vabbè quelli poi dopo vedremo uno strano biglietto raggiungi il cimitero ok vediamo fanno la via più semplice che si può fare tanto dovrebbe essere tipo forse le 4 le 5 del pomeriggio ok vediamo di andarci più fretta possibile cimitero è quello lì dove stavano quei cosi no quei tombe credo eh vediamo un po' raggiungi il cimitero raggiungi il cimitero vedo che sia quello eh eh non ne vedo altri ah no questo è il cimitero la linea gotica il cimitero non è nemmeno quello andiamo alla linea gotica perché la linea gotica ah ok della mappa eh vabbè intanto andiamo al cimitero che dovrebbe essere quello perché solo lì ho visto le tombe io dovrebbe essere questo a me mi pare un cimitero mi pare un du tombe pure non ce sto a capire sta cosa allora uno strano biglietto ho trovato questo biglietto tra le cose della scrittura di Marta ma non ha alcun senso raggiungi il cimitero devo controllare il corpo di Marta al cimitero eeeh dov'è il cimitero scusate eh se non lo vedo ah forse è qui questo è il cimitero potrebbe essere credo di sì eh guarda la mappa quant'è quant'è grossa e torniamo indietro e passiamo per la linea gotica così almeno non direi altra mille Chrome chi 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 Allora eccoci qui, andiamo verso la linea gotica, almeno facciamo qualcosa che il cimitero ancora non ho capito se sia quello più avanti di qua o quell'altro delle tombe, ma ci sono andato e non... Allora, intanto capiamoci un po' di più qua, eh sì è lì la tomba, oh credo, insomma non lo so, intanto andiamo qui a linea gotica l'abbiamo superata? Eh però facciamolo perché sennò stiamo qui, andiamo alla tomba, intanto mi vanno ammazzare voglio dire, qui? Vero? Eh cioè, il padre no, non mi vuole ammazzare voraccio, però insomma, intanto mettiamo gli... Ok, ma come io dico che sta lì? Vabbè, andremo a finire, a vedere poi... Andiamo alla cripta e mettiamoci paura a sto punto Bella stradina, eh? Veramente ricorda il gladiatore quando lui sognava il figlio e la moglie e alla fine l'hanno girato lì perciò... Ecco la cripta, ah... Buonasera... Sono quella che si può far mettere paura... Io non so se sento le voci ma ho già sentito le voci... Vai... Cos'è questo? No, a cosa? Come non ora? Speriamo che non ci sia il custode, mi metti i brividi quell'uomo... Eh, è il custode, eh? Forse è l'unico che ti può salvare... Ehi, Dionella! C'è Dionella qua... Mirian... Poi... Venere... Gianni, c'è Gianni... Giglio... Giglio Q... Mazza, nel novecento è morto... Poi... Nieves... Questo che è straniero... Vilelmo... Beh, non si ride la cosa, però... Vilelmo... Ormis... Vilfrido... Palmina... Beh, tutti i film... Eh, sì, sì, i film... Zegliea... Com'è? Zeglia? Tutti i nomi del passato, insomma... Un po' fanno sorridere... Pure Roviero, insomma... Roviero... Se sta... Perché erano i nomi... Dionella... E potremmo vedere tutti, eh? Questa non si legge... Vabbè... Alcidio... Scusate, ma non è rispettoso... Però, insomma... Tanto è un videogioco, insomma... Spero che non siano persone morte realmente... Perché se no... Eh... Fare una brutta figura... Vabbè... Dovete mannà... Meglio no... Ah, ecco lì... Asvero... Tanto qua ci stanno tutti, eh... Trinità... Caro... Acido... Verdina... Aster... Bertino... Pellegra... Scusate... Mi fanno ridere... Meme... Eh... Come qua... Meme... Molto altro... Come faccio? Dai... Meme... Molto altro... Lucilla... Narcisa... Daniela... Ampelio... Brandizio... Evandrina... Merigo... Floriana... Mi fanno ridere... Io rispetto... Rispetto tutta la gente che... Però... Fanno... Mi fanno sorridere... Ecco... Non è presa in giro... Ma io devo assolutamente entrare... Eh... C'avevi dietro un chesine... Ecco... Mò torniamo indietro... Adesso no... Diceva... E' andata a far leggere tutte le tombe... Ecco... Ma noi dobbiamo via i tronchesi... Ma lì ci vogliamo entrare? O è una porta... Una porta chiusa... Me sa... E' una porta... Vediamo... No... Non si può entrare... A me poi... I cimiteri... Vabbè... Penso a chiunque... Mettono una malinconia... Una tristezza... Perché... Quello è... La sua funzione... Però insomma... Pur sempre... Un posto di... Cordoglio... E di ricordo... Per forzare il lucchetto... Di corsa... Prima che il custode torni... Vai vai vai... Cori... Apriamo sta cripta... E se no ci vede... Dice che sta a fa... Allora... Apriamo... Mi direi se rimette il lucchetto... E ci richiude dentro... Che va a finire... Ok... Vedi come si fanno i ladri eh... Da... Apri... Adesso... E' l'embriaca col vino... Il custode... Allora... Vediamo... Fiori... Fuori si... Ah no... Fuori i tedeschi... Ho letto fiori secchi... Io mi trovo dalla parte della mia famiglia... Ma non so se è la parte giusta... E' questo... Istruzioni per l'uso dell'apparecchio telefonico automatico... Supponiamo che desideriate chiamare il numero 0573... Staccate il microtelefono dal gancio... E portate il ricevitore all'orecchio... Sentirete un suono continuo... Introducete l'indice... Il numero 0... Girate il disco... Fino al punto di arresto... Lasciate che il disco ritorni liberamente alla sua posizione di riposo... Ripetere la stessa operazione per le... Fantastico... 5... 7... 3... Ci volevo le istruzioni eh... Perché non... È il tempo... Vediamo qui la lettera... Basta... Non posso più andare avanti così... Non posso continuare a fare finta di niente... La mia famiglia è stata massacrata da questi sporchi nazisti... Mia figlia non è stata neppure seppellita... E io ho dovuto seppellire quella mezzosangue... Una famiglia italiana che si è sporcata con i tedeschi... Bastardi... Ecco cosa sono... Ora cosa dovrei fare della mia vita... Voglio farla finita... Ma voglio portarmi dietro un po' di tedeschi... Non mi vedrete più... Ma sentirete parlare di me... Viva la resistenza... Viva l'Italia... Quanta ragione Alberto... Mi ha fatto rite mezzosangue pensando a Harry Potter... Vabbè... Non c'entra niente... Ah qua... Ah la macchinetta fotografica... Nuova... Cosa ho ottenuto... Nuova... Oggetto... Ah perché fotografavano i morti mi sa eh... Non ne sono sicuro di sta cosa... Intanto vediamo qui dentro... Ma la cripta non ci fa entrare una cripta di Marta... O no... Intanto vedi... Moretto... Eldo... Talina... Imperiale... Io spero... Se sono persone vere che veramente il cimitero sia vero... Mi dispiace che ho sorriso e... E non volevo... Però eh... Vabbè... Andiamo avanti che è meglio... Che costa lentezza... Allora prima di andarcene... Vediamo effettivamente se... Entra nella cripta di famiglia... Nooo... Eh devo entrare... Qual è la cripta di famiglia? Scusate eh... Emo riapri un'altra volta... Allora diceva da scendere le scale... Eh... Io pensavo di no... Però qua... Eccola... E chi l'aveva vista? Ok... Ok... La cripta di famiglia è chiusa... La chiave è nel casotto del custode... Eh... Capito ma... Quello è il casotto del custode... No? Ah ok... Ah no... Torniamo qua... Mo... Se abbiamo i colpi qui eh... La cripta voglio dire... Mamma mia... Forza e coraggio... Ale... Capisco perché avevamo paura da piccole... È un luogo piuttosto tetro... Invece adesso c'è proprio il coraggio... Bella però eh... Cioè... Che diamo qua però? Eh? Non mi dà segnalini... Ah ok... Sta grossa sta cripta... Cioè di qua... Pensate c'è un'altra via di qua... Questi sono tutti quelli della famiglia morti... Dagli queste bandiere dei nazisti... Vabbè... Era quel tempo insomma... Ma se abbiamo un corpo da niente... Apri la tomba... Non si va... Ma se abbiamo un corpo da niente... Fa sta scavolata... Non so... Si è mantenuta ancora eh... Che Dio mi possa perdonare... Per quello che sto per fare... E perdonami soprattutto tu... Marta... No... Qua è censura... È un'altra censura... Che stiamo a fa? Che stiamo a sbottonare... Ah... Che stiamo a sbottonare la camicia... No te prego... Vabbè... Ok... Ho messo le mani davanti... Forse questa parte la posso avere... Quest'altra proprio no... Aspetta... Che sta sbottonare sotto... Aspetta... No... C'ha i sottani... Si può fare... No... No... Però fino a un certo punto... Non si può... Non si può vedere... Ah... 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 No... La pazzia... Non... La taglia la pancia... Ma che... Ma che cavolo... Ah... No... No... Te prego... Qua non è censura... Ah... È taglia però... No... Te prego... C'è... Che sta taglia... La pancia... Che sta taglia... No... 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 Assolutamente no... C'è... Gli sta smucinando dentro la pancia... No... Ma che stiamo a vedere... C'è... Che sto a vedere... No... 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 Il bambino... No... Con due teste... Gli ha messi sul petto... Marta era incinta... Incinta di un feto deforme... Con due teste... Di nuovo a Gemini... Dicono sia una questione di famiglia... Sì... Però... Voglio dire... Che scene... Stavo facendo cose che neanche... Non so quale forza mi muovesse... Non mi fermavo più di fronte a nulla... E decisi anche di fotografare quell'orrore... Come prova... Per mostrarla a mia madre... A tutti... La madre di manda dentro... Dentro l'ospedale psichiatrico... Non è che fa bene... Cioè... Ne fa male... Voglio dire... Ma dai... Esu... Forse qui... Lo posso far vedere con qualche... Con qualche cosa... Con qualche censuretta... Eh... Però... Però dai... Esu... Bello... Fantastico... Perché... Che io voglio dire al gioco... Fai mo' la foto qua... Col fedo... Ma che ha la pancia o col fedo? Fai mo' la con tutta la pancia... Se no... Madre non ci credi... Ce l'ho presa per terra... Allora... Mostra così... Il fuoco... Che non è a fuoco assolutamente... Ok... A fuoco... E... Scatta... Ora basta... Non ti torturerò più... Eh no... Dopo che hai sventrata... Sistemarti... E rimarrò qui con te... Eh... Ho capito... Assieme quanto tempo assieme... Ti amo... Marta... Ah... Io... Guarda no... Non lo so eh... Se è giusto fare così... Eh... Gli ha tagliata la pancia... Vabbè... E viene di sangue pure su... Puoi stare senza di lei... Anche il nostro caro Don Attilio... Sembra non capire la situazione... Irene... La prego... Consideri l'idea di lasciare l'Italia... Come le ha suggerito suo marito... Sarebbe meglio per tutti... Soprattutto per la ragazza... Temo che nulla possa farla migliorare... Suo padre sembra non volerlo accettare... Io credo che la speranza sia finita da tempo... Concordo... Ma in Germania potrà avere cure migliori... In una clinica specializzata... L'incomio è una soluzione temporanea... Per evitare che faccia delle sciocchezze... È un posto da incubo... Lei lo sa bene... Non può volere questo per sua figlia... Certo che non lo voglio... Ma cosa posso fare? È un pericolo per se stessa... Per noi... Per tutti... È anche sparita una pistola di Erich... L'ha presa lei... Chi altri? Sono così spaventata dottore... Non posso più aspettare... E poi lo sa cosa pensano degli italiani in Germania... Eh... Ma salite con Erich... Uno stimato generale... Tutti vi rispetteranno... Quella dannata ragazza... Dove sarà? Speriamo non faccia altre sciocchezze... La spero qui in cantina... Prima o poi verrà in camera oscura... Questo è certo... Rimarrei volentieri a farle compagnia... Ma devo correre in paese... Per sistemare le ultime cose per il ricovero... Grazie dottore... Non si preoccupi... Ci vedremo più tardi... Vabbè sciocchezze avevamo fatte... E' sventrato mia sorella... Eh... Buona... Buonasera madre... La spingerò a parlare... Parlerà per paura... Pensando poi di mettermi a tacere come pazza... Ma senza che lei lo sappia... Io registrerò tutto... Tutti sapranno cosa ha fatto a sua figlia... Ok... Ehi... Mamma mia... Sempre peggio... Allora... Devo registrare... Detto... Mettere sul rack... Perché sicuramente... Ora devo sviluppare la foto... Quella entra... Sveglierei la mamma... Quindi... Ah... Devo chiudere la porta? Ah no... Che cosa devo fare? Io metto le mie cuffie... No... No... Ora la sveglio e confesserà... E come se confesserà? Eh... Ah svegliata... Cosa fai... Figlia mia... Ma gli ha sparato... Che puoi rovinarti la vita... Gli ha sparato... Non voglio sparare mamma... Non sono stata io... No sono stato io... Che devo sparare? Oh mio Dio... Che cosa ho fatto? È stata lei a costringermi... Lei ha ucciso Marta... Ma chi mai mi credeva... Avola? Veramente stava a dormì... Quei rollini... Sono la mia unica speranza... Ma non credo per l'omicidio valga questa cosa eh... Che tu fa così? Ma chi... Ah... Chi avete... Eh... Eh... Ma il babbo ci va in cantina... No perché sennò... Angoletti vostra... Ma che siete scemi... Ecco... Mo sto diventata surda... Ma speriamo... No io devo proseguire per forza... Che... Che famo? Sviluppamo la foto? È andata via la luce... È impossibile sviluppare quel rollino ora... Eh... Sì ma c'è ne ha cennino... Perché sennò qua si abbiamo i corpi eh... Oh... No... Come ci vado? Senza corrente elettrica la camera oscura è inutilizzabile... Eh... Ma sto pure dentro... Ma che è elettrica... E come... E beh... E allora... E b... Cioè che... Dove leggere il diario... 21 luglio... Lapo è morto... Ho scoperto il suo corpo e mi hanno sparato alle spalle... Pensavo di aver toccato il fondo... Sono giorni senza anima questi... Dopo tante peripezie sono infine riuscita a incontrare la dama bianca... Almeno così credo... Il confine tra realtà e sogno mi è sempre meno chiaro... Ho pensato molto alle sue parole... Ma non mi hanno chiarito le idee... Continuano ad echeggiarmi nella mente... Probabilmente le capirò quando sarà il momento... Ormai so per certo che è stata la mamma a uccidere Marta... Pensando che fossi io... Solo una settimana fa tutto questo sarebbe sembrato impossibile... Davo solo trovare le prove... Così che possa pagare per quello che ha fatto... Capito? Però qua... Pazzia proprio totale eh... Eh... Cos'è qua eh... Niente... Non posso fare niente... B? I tarocchi? Metta le gite rocchi adesso? Che ne so... Perché sono entrato dentro alla cosa io? Non ho capito... Il pazzo... Chiaramente... Certo ma non è pazzo che è sicuro di quello che pensa la gente... Diavolo... Ok... Scegliamo questa... E sarà molto difficile risollevarsi dal crollo mentale... Ok... Fatto... Ah un'altra... La morte... Il destino è ineludibile... La fine ci aspetta... Il corrente non c'è sta per niente... La morte non si apre... Che cavolo di muovacua eh... Ok... Fino nel vestito... Ok... E non... Non c'ho più niente da fare qua... Cioè posso... Manca l'accendino funziona più? Cioè se faccio che la macchinetta fotografica... Che c'ho fatto? Che foda a caso... Ma il ventilatore funziona? Come fai a non starciare la luce? Scusate... E poi mi sono chiuso qua dentro... Ah ma la porta muo è aperta... Aspetta... Porta è aperta... Ah... Allora... Questo gameplay può finire qui... Perché è durato abbastanza parecchio... Io vi saluto... E... Modemon al prossimo video gameplay... Oltre... Nel buio... Memmen vi saluta... Me Arancione vi saluta... E... Vi aspetto nel prossimo video gameplay di... Marta is dead... Yuhuuu... Pazzia... Bombe... Matricidio... Olè...